Ma andiamo avanti con i premi, il premio strega. Sì, andiamo avanti con la recensione dei libri della Sestina. Parliamo di Invernale di Dario Voltolini, pubblicato dalla nave di Teseo. Allora, questa è una storia molto personale, è una storia che riguarda il padre di Dario Voltolini ed è praticamente un po' il racconto della scoperta e poi dell'evoluzione della malattia di questo padre da parte del figlio, allora ventenne, appunto Voltolini. Il padre di Voltolini faceva il macellaio, quindi aveva anche questo lavoro che da un certo punto di vista si presta a delle descrizioni impegnative, quello che poi effettivamente fa Voltolini soprattutto all'inizio, lui aveva un banco di carne al mercato e quindi lui racconta in varie pagine questo mestiere, dandogli però un lirismo che effettivamente sembra appartenere poco all'essere un macellaio ma insomma ha un modo, non piacerà probabilmente ai vegetariani e ai vegani leggere quelle prime pagine però ecco, io invece l'ho trovato anche una forma un po' di tributo a questa professione alla quale evidentemente quest'uomo dava tanta importanza, tanto peso all'interno della sua vita tanto da volersene occupare il più possibile anche nei momenti in cui la malattia glielo permetteva poco e a un certo punto si fa una specie di assistente che poi piano piano prende sempre più piede all'interno di questo banco e si occupa sempre di più lui però ogni tanto va lì e cerca comunque di fare il suo anche con una grande tenerezza e Voltolini racconta questo periodo di malattia dalla scoperta, ovviamente a tutta l'evoluzione e poi la scomparsa è una sorta di, mi viene da dire, di diario anche se è un diario che racconta vari punti di vista, il proprio principalmente, quello da figlio ventenne appunto che si rende conto che sta per perdere un genitore ma anche un po' quello del padre, lui cerca di infilarsi un po' nella sua testa e di capire come può essere stato gestire quei momenti della vita in una recensione ho trovato una bella definizione che è una penna lirica e il contempo chirurgica effettivamente è un po' così, nel senso che la lingua di Voltolini è una lingua molto ricca anche molto piena di parole poetiche ma è anche molto precisa nel rendere certe emozioni, certi sentimenti, certe sensazioni senza essere mai banale, questo assolutamente no, non c'è pietismo, non c'è lamentazione c'è constatazione della realtà con un tocco diciamo dell'emotività che in effetti somiglia molto all'autore stesso io poi non è che lo conosca più di tanto però quel poco che ho potuto averci a che fare ho notato un po' questa specie di timidezza, di delicatezza nell'essere anche alla ribalta stando comunque nella sestina quindi avere a che fare con tante persone che leggono il tuo libro pensate che comunque sono tante persone che leggono una storia che è molto personale, molto intima ovviamente uno se l'ha scritta è perché vuole che gli altri la leggano, ovvio però non deve essere semplice anche gestire questo tipo di emozione gli altri che danno anche dei pareri rispetto a come tu hai raccontato una storia personale siamo a Torino, tanto per dare qualche riferimento ovviamente negli anni 70 è appunto una storia molto semplice, non c'è, lui per esempio cerca di avere un po' un rapporto con il lavoro del padre, di partecipare, ogni tanto di dare una mano ma si vede che non è una cosa sua, non è una cosa per cui è portato però è come se fosse anche un po' un modo per avvicinarsi a questo padre per condividere qualcosa, dicevi? all'interno della dinamica della sestina, di questa sestina visto che appunto abbiamo visto come funzionano Flavia ha esordito nell'incontro dicendo che già attraverso i social dei singoli autori e autrici ma soprattutto del premio strega durante il tour di presentazione di credo 30 e più presentazioni c'erano 29 date di cui 22 di seguito, una di seguito all'altra altro che il tour mondiale delle baby metal, una roba molto più serrata Dario Voltolini credo sia stato colui che ha fatto da collante ha creato forse il gruppo, ha fatto anche un po' la parte della persona che inserisce lo spirito, si mette in gioco e crea situazioni divertenti e da quello che abbiamo visto la finale all'infeo di Valle Giulia o di Villa Giulia sarà sicuramente influenzata dal prodotto di questa unione anche amicale, divertita di queste sei persone tutte diverse tra loro che però appunto si vedono costrette a condividere appunto un mese di presentazioni dove l'uno sente il racconto del libro dell'altro e viceversa ma vi rimando all'ascolto completo dell'incontro perché appunto è un'alchimia, è qualcosa che non si sente molto di frequente specialmente da queste voci a proposito di voci ci sentiamo un estratto un minuto e 48 proprio dalla viva voce di Dario Voltolini Allora io racconto fatti avvenuti 40 e passa anni fa ho nostalgia di quel periodo, non lo so cioè c'è un'accezione di nostalgia che ha a che fare con il dolore di tornare sui certi posti, sì allora in quel caso sì perché è stato un periodo doloroso però c'è una sfumatura di nostalgia che però forse Tommaso mi aiuterà è più una parola tedesca che credo sia Sengsucht che è una i tedeschi sono particolari è la nostalgia di qualcosa che non si è vissuto allora io forse sono così ho una nostalgia colorita come dolore nel ritornare a quel passato e ho una nostalgia Sengsucht per quello che non c'è stato perché poi questo lutto ha portato tutti gli anni successivi sono stati senza senza mio padre il tutto farebbe pensare e credo che sia anche così a un libro poco particolarmente allegro però come ho spesso cercato di dire tutti noi che facciamo questo lavoro quando parliamo anche di cose che sono dolorose o che sono tristi o cupe o comunque negative secondo me e secondo noi il fatto di di parlarne di creare qualcosa che non c'è con la nostra piccola arte che è quella della scrittura fa comunque pendere la bilancia verso una vitalità nel senso che quei fatti ci sarebbero sarebbero lo stesso dolorosi ma raccontati hanno un'iniezione di vita che altrimenti non avrebbero